e salve a tutti i ragazzi di Alphatech e benvenuti in questo nuovo video siamo qui oggi con il setup solito macro, una webcam differente è ritornata e spero non lo odierete, per un paio di video probabilmente ci sarà la livecam HD 5000 in quanto la SG Cam è ritornata direttamente da Amazon per la scandalosissima batteria e comunque anche se altruare i problemi li utilizzo anche come webcam il problema è che adesso non siamo né in full HD in realtà anche se poi lo vedete o upscalato sicuramente in full HD per comunque ricezione desktop e quant'altro sono quella risoluzione perché non so per quale motivo ora devo indagare su Arch Linux la livecam a 720p che è la sua risoluzione massima a me sembra addirittura leggermente sotto, mi va solo a 9-5 fps a questa soluzione che è poco meno di 720p sono riuscito a farla andare tra i 15-20 fps non si dovrebbe vedere troppa largosità o comunque poi quando si riduce e passiamo al desktop diventa accettabile quindi mi scuso, intanto vi anticipo questa piccola problematica ma poi si andrà a risolvere col tempo o risolvendo con la livecam o probabilmente stituendola con altri se facendo gli esperimenti e delle prove ma ancora non ho trovato una soluzione che mi permetta di registrare bene video avrei problemi o di continuità video o non vedrei il video e quindi siamo con la soluzione di backup invece oggi cosa andremo a fare? è un'altra sorta di video legato alla serie di manutenzione dovrebbe essere penso l'ultimo poi vediamo come succede che è una mezza migrazione e manutenzione perché dobbiamo andare innanzitutto a spegnere il server per fare del ricablaggio interno che andava fatto verificare la pasta termica su una delle due CPU sulla CPU 2 perché sembra scaldare un pelo più del normale ma non so se magari è il chip stesso, il processore o perché magari è più carico quello quindi adesso va verificato perché tendenzialmente l'ho trovato più caldo e dobbiamo anche andare a rimuovere l'hard disk datastore 02 che era stato aggiunto dopo l'ultima migrazione ho preso il disco da un tera dell'altro server e l'ho messo dentro perché a quanto pare, hey che gioia però il disco più vecchio tra i due mi sa ha dei settori danneggiati e riallocati ora non ricordo ma prima di fare tutto questo ci dobbiamo collegare cambiamo la visuale all'interfaccia web per spegnere tutte le macchine virtuali intanto le due macchine virtuali che erano con l'hard disk io le ho già migrate una l'ho finita di migrare ieri sera una l'ha migrata un'altra notte quindi una è già spenta l'altra va spinta e usiamo Firefox finalmente perché su Chrome ho tutto quanto e quindi darebbe problemi oh si vede che quella macchina è spenta ho metà della RAM libera tra l'altro un altro progetto un'altra cosa che andrò a fare a breve è cambiare aumentare la RAM il problema è che quella scheda madre è molto limitata come stick che può sopportare come dimensione e non sono ancora sicuro se mi convenga stituire la RAM o stituire proprio la board perché forse ho trovato da venderla quindi è una sempre diciamo è la successione della versione modella subito dopo quella che però ha più stick di RAM e supporta stick più grossi perché questo è limitato con stick da sono 4 abbiamo 16 GB con stick da 4 GB no aspetta abbiamo 16 sono stick da 4 GB 4 da 4 quando l'altra supporta anche stick da 8 GB quindi 16 GB lo facciamo con 2 stick in più al posto di avere 4 banchi per processore ne ha 6 quindi cioè praticamente l'ultimo upgrade poi rimarrà col tempo quando non bastare più la potenza di calcolo applicare i processori X della serie che sono i top e abbiamo fatto un processo un server che per uso domenico secondo me va anche troppo bene ok intanto mi sono arrivando messaggi quindi non basta non averlo sul web arrivano anche sul where ma noi ci spostiamo in sotto di moda un attimo vi faccio vedere i log che non ho riscontrato solo lì però comunque io per sicurezza se lo vado a rimuovere poi andiamo anche ad analizzare fuori probabilmente hard disk gli errori eccolo qua a parte no questa è la bov temperature perché ha dei problemi mi sa di allora aspetta mettiamolo in fullscreen bello grande questo è il problema mi sa di lettore delle temperature perché dice che c'è il problema con il trash cioè il trash il data 31 mi sa che legge sempre zero e non capisco come mai perché gli hard disk dovrebbe leggerli bene ma poi questa è la scheda madre server tra l'altro con il supporto all'ISXI quindi dovrebbe anche leggere le temperature ma quanto pare comunque l'errore è questo warning e fa below reallocated sector da questo errore in realtà noto adesso che lo dà anche sull'altro disco quindi noi intanto uno comunque un hard disk andava rimosso perché tanto non serviva mi sono accorto adesso che è apparso anche sull'altro questa mattina o lo dava anche prima lo dava anche prima questo è stamattina questo è stamattina c'è qualcosa più vecchio di stamattina voglio capire se si è casualmente guastato anche l'altro adesso perché sennò abbiamo una sfiga epocale ok questo è il 9N KND questo è sempre stanotte abbiate pazienza ancora un attimo questo è il 9N questo è KND 9N continuo a dare entrambi l'avviso siamo a 8000 righe di log vabbè ok questo è quando ho fatto più o meno 9N KND questo ieri sarà quando ho staccato KND 9N lo dà su entrambi quindi potrebbe essere anche un errore di lettura sensoriale ma tanto uno va tolto quindi lo togliamo lo mettiamo adesso poi su questo pc facciamo uno scan dello smart e vediamo se ha qualche errore se dà errore capiamo che sono potrebbe essere rovinato anche l'altro altrimenti vuol dire che l'ESXI non riesce neanche a leggere bene lo smart di questi dischi e non capisco come perché continuo a dire scusate ho un po' di mal di gola e non capisco come mai perché è una scheda madre che supporta pienamente l'ESXI non so se questa versione ma basicamente comunque se parte dovrebbe supportarla allora prima cosa andiamo un attimo a raggiungere in inventario la macchina migrata ieri sera mi ero accorta che lo dava su entrambi i dischi devo essere sincero allora andiamo a raggiungere questo qualche problema su Firefox tra l'altro il font che usa Firefox è abbastanza strano non riusco a capire che font sia poi passate che riguarda durante i miei vecchi video puramente riuscire a capire la cosa intendo allora questo è un semplice web server quindi lo spegniamo così no così quindi adesso sicuramente si debiliteranno i backup remoti perché qui su questa macchina vengono anche fatti via no eccolo via sftp vengono anche fatti dei dei backup ma li fa solo ogni giorno a mezzanotte quindi ma porra che miseria perché non fai login guarda che boia la tastiera inglese mi frega sempre non capito perché non si setta con la tastiera che gli dà il browser barro del sistema ok shut down non ci prendo oggi ok questo intanto si sta spegnendo poi passiamo a allora questo è il 3pbx ma spegnere anche lui facciamo già il comando perché questo è quell'altro che è migrato ieri sera ok niente rimane solo il router e la macchina v server windows allora spegniamo prima windows server che ucciderà il dhcp questo lo facciamo da console forse potremmo farlo anche da rdp facciamolo da console pa 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 and control catch ac ok ha fatto aggiornamenti vabbè ok andrò a restarlo guarda più o meno in realtà non è che è improvvisa spendo di botto perché devo fare una manutenzione estrema subito passiamo invece a spegnere il router questa sezione non è sicura va bene i warning di farfox stanno diventando quasi più invasivi di chrome ok questo è il router lo andiamo a spegnere da sistema ah ogni volta non mi ricordo da dove si spegne ed è sempre uguale allora no dove caspita si spegneva allora allora no c'era in un menu shutdown reboot mi sa da qualche parte ora se io ricordo qual è il menu eccolo reboot però io non devo fare reboot allora c'è anche shutdown vuol dire che li hanno tu reboot il mio ti piace il reboot cancel vi faccio reboot alt system ecco qual è hanno cambiato con l'ultimo aggiornamento però vediamo subito cosa sta combinando in realtà potevo farlo anche dalla web console anzi forse ultimamente lo facevo dalla web console ma vabbè è dalla web console di sistema non dalla web UI sì quindi web console wow è un up time di 32 giorni normale bene ora abbiamo ufficialmente spento tutto lo non diamo in modalità manutenzione e lo spegniamo sì e non chiede la motivazione bene ok mentre lui si spegne io carico carico su il tripod il trepiede la reflex che è la sì sto indicando la reflex nella webcam prendo su tutto e andiamo su e andiamo a fare manutenzione bene ragazzi eccoci qui tornati con il nostro bellissimo server andiamo un po' ad aprirlo ho qua la chiave intanto approfitto per diciamo scusarmi e avvisarvi se vi state domandando che fine io abbia fatto sono stato male in questo periodo mentre smonto parliamo un attimo di altre cose e quindi per quello non avete probabilmente sarà un paio di settimane più o meno il sito tra fine quei tempi di editing di tutto più o meno che non vedete un un altro un video insomma ecco quindi si e niente quindi tra l'altro ho ancora ogni tanto problemi di scusate mi tosse e niente poi tra l'altro devo approfittare di no visto che siamo almeno a Pasqua spero abbiate passato una buona Pasqua e di farvi anche i miei auguri di buona Pasqua un po' in ritardo un po' molto in ritardo per quando vedrete probabilmente il video comunque allora bando alle ciance si dovrebbero vedere se vedo bene lo schermo della reflex abbiamo questo che è il datastore 1 l'SSD che è stato qua e il datastore 2 dobbiamo rimuovere il datastore 2 fissare l'SSD sul fondo e fare tutti i collegamenti necessari e si ci divertiremo un attimo soprattutto perché tocca sicuramente slegare completamente l'alimentatore e non sarà una cosa molto simpatica ma ora vediamo un po' come si può fare innanzitutto io libererei questi dispositivi e lascerei ok questo qua per ricordarmi dove è collegato non che i 6i non riconosca tramite l'ID del disco per sicurezza questo cavo lo terminiamo dopo lo mandiamo più in giù ho staccato un cavo che non doveva ma tanto serviva allora questo è l'SSD che uso che avevo da 120 non è che sia chissà quale SSD per accelerare Windows Server il boot disk questo è ah no il KND questo è il KND quindi quello che vedevate e il 19M è l'altro è il Datastore quello che viva con 19 qua il 19 mi sembra qualcosa così è il Datastore 1 quindi quello che avevo visto essere era il KND l'unico che avevo notato ma non so come perché i warning sono dati a poca licenza l'uno dall'altro conoscendo e sapendo i tempi in cui li ho presi non mi supererebbe neanche che possano essere entrambi guasti perché ho avuto una mandata di Woody fallati che ha messo paura ho avuto tipo un mese in cui tu dici che sono arrivati nell'arco di un paio di mesi un mese sono tutti rientrati rientrati in assistenza purtroppo rientrati come Woody Blue Refurbish quelle lì non si chiamano Refurbish quelli che danno loro non che mi ispirita tanto come sistema preferivo avere proprio un Woody Blue Punto nuovo ma vabbè così fa Woody e sicuramente se mi arriva uno di quelli non lo andrò mai a mettere non sono masochista sinceramente non lo vado a fare ok ora oddio questo ci arriva ad alimentare eventualmente dell'SSD perché se ci arriva forse abbiamo fatto giornata perché eh sì che ci arriva mi sa che abbiamo fatto giornata perché fino a qua ci arriva deve arrivare solo fino a qua e poi piegarsi subito magari facciamo uscire anche l'altro c'è un altro connettore di mezzo no allora non possiamo prolungare più di tanto così viene qua va bene invece siccome il cavo dati si arriva qui non si collega direttamente ok vado un attimo a recuperare le viti vabbè voi mi sentirete comunque vicino perché ho il wireless lavelier però non sono proprio così vicine ero proprio indietro eccomi qua allora lo andiamo a fissare qua sul fondo questo per perché in questo caso in realtà non ha un vero slot per dove ho messo il cacciavite qua per gli SSD ha solo questo spazio sul fondo che sembra di messere gli SSD io l'ho sempre reputato come un spazio per gli SSD comunque funziona bene al suo scopo l'avevo già fatto prima sull'altro server quindi quindi diciamo che ha funzionato e lo uso per questo anche se sì non è che sia proprio la cosa più comoda per il cable management adesso questa tanto tanto perché è connettorizzata in basso a sinistra l'altra che c'è l'altra che era una normale scheda madre desktop ce le ha come sempre in basso a destra e cercava fare bastare il cavo sotto il cavo stato sotto l'SSD fargli fare un po' una piega mezza secca quindi sceno era al massimo e non mi ricordo le lascio le viti ah qua di fianco poi le ho appoggiate due nanosecondi fa cioè ok ho seri problemi di memoria molto grandi molto 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 ok e ci siamo quasi porca boia andavo a ricercarle di nuovo su in alto non ci sono proprio avvitiamo ok 4 volte su 4 ragazzi quello vedrete sicuramente si vede in camera più che si vede io vado a cercarle qua su le viti sì sì che si vede e invece la v qua in realtà qua sotto bene allora avvitato ok ora corrente ah l'alimentazione forse devo farla passare vabbè e noi la facciamo passare di sopra passare di sotto tanto si ferma lì va benissimo dovrebbe arrivarci con un pelo di fortuna un po' di sedere che non va non passerebbe mai forse facendo la triangolare po' che vado in mezzo alla ventola a rompere le scatole la ventola c'è la protezione davanti però allora ok ho legato qua ah voi vedete un po' scuro effettivamente lì comunque è qui collegata la corrente ora il cavo dati anche se è un po' lunghitto sul video se trovo qualcosa per legarlo oddio ci sarebbe anche giù così si sta fermo da solo ok e questa operazione è fatta ora arriva un'operazione più diciamo pesante perché dobbiamo smontare questo per vedere se ho messo malissimo la pasta termica o se è fatto qualcuno dei miei danni quindi via la ventola e via con le viti qui c'è poi tra l'altro sono anche molto abbastate sono quelle con la molla per tenere bene in tensione quindi sì non sono molto simpatiche tra l'altro cosa intende non lasciare non sganciare tutto da un lato e non da un altro che se no ci rischiamo di schiantare mezzasi più e anche un lato della scheda madre perché sentite questo scatto che fa fa una leva della maremma ok dovremmo però quasi esserci mi sa che ci siamo ci siamo eccolo qua non era poi così male non so se si vede la pasta termica un attimo che cerco di farvela vedere viate pazienza non so se qui si mette a fuoco si vede una solicipita qui vediamo un po' eccola non era proprio proprio malaccia sì poteva essere meglio per carità però non è che sia così tanto male allora facciamo una cosa e dire non c'è spazio allora provo un attimo a spostare l'inquadratura aggiungiamo giusto uno sputo di pasta termica e poi lo chiudiamo vediamo se magari performa meglio tanto giro la camera e torno con la pasta termica ok bene ho recuperato la pasta termica che è la stessa che c'è su che è la MX4 posso raggiungerci ecco un puntino appena ok cercando di non sporcarmi e non sporcare e ora allora queste la domanda mia è che non mi ricordo mai da che lato queste mandano l'aria è una sana saggia domanda ora diciamo così io le riavvito qua dovrei avere un cavo della corrente e provo ad alimentarla semplicemente senza far avviare il suo operativo vostro per vedere come vanno e si noto che l'airflow le ho montate al contrario perché il dubbio che mi sorge può essere anche quello perché in certe circostanze si scaldicchia un pelo in tale circostanza li rinvertiamo entrambi allora avvitiamo 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 avvità perché non fanno presa una volta e si è bastardo poi per fargli far presa perché fanno delle leve assurde questi cosi ok questo è arrivato questo ancora no fissi oh è arrivato questo arrivato e questo è arrivato collegato ora vediamo se arriva dovrei avere qua il cavo ok diciamo non penso arrivo in realtà c'è una prolunga la prolunga non è corta però basta fare così ok è spento ok prima di accenderlo devo aprire davanti no ok ok il flow è corretto è perfetto va bene così li avevo messi correttamente perfetto riportiamo questo cavo al suo posto a rialimentare questo pc qua ok bene il pc è ancora vivo ok allora qui ci siamo questo qua è a posto qui ci siamo e niente non mi piacciono tanto questi cavi ma non ho nulla con cui legarli più decentemente sinceramente ok qui ci siamo devo collegare altro non penso no no a volte è stato a posto rama a posto ok questo è a posto bene niente siamo pronti a richiuderlo trovo l'ho messo la pacca del case e diciamo rimetto in produzione quindi chiudiamo un po' la pacca laterale prendiamo le due viti e la chiave allora chiudiamo il lock laterale con la chiave e avvitiamo le viti ok ok ora non mi resta che riportare al suo posto il server accenderlo e ci rivediamo sulla web UI delle ASIC sai bene ragazzi allora ho testato l'hard disk che ho rimosso e sì anche se non era quello il threshold dei settori danneggiati comunque qualcosa aveva ha comunque dei problemi penso a meccanici il disco perché legge a 50 megabyte al secondo e ne scrive a 70 quindi no non è proprio perfetto soprattutto perché ha un anno di utilizzo se non sbaglio poco più e sì qualcosa con il disco non va ora temporaneamente sto rimuovendo anche il secondo VD Blue off camera ho già preparato la migrazione su un VD Black che avevo in quanto ha il doppio più o meno delle performance di quei dischi lì anche se ho dei VD Blue più recenti ultimamente orniati che arrivavano quasi al vicio di un VD Black mi hanno stupito sono proprio dei Black con lo sticker del Blue per far capire concettualmente ma molto più silenziosi però al momento ho un Black da 500 che mi basta e provo a mettere quello in frattempo di probabilmente trovare un disco più idoneo per un server non riesco a capire se è un problema di affidabilità nel disco con quel tipo di utilizzo e sicuramente posso capire che il Blue non sono al massimo ma magari non mi sono al massimo delle performance non dovrebbero autodistruggersi in un anno anche perché adesso proverò anche ho quasi finito completamente la migrazione anche il secondo disco ma se si è autodistrutto anche questo che poi è il più recente è ancora più recente di quell'altro mi fa pensare veramente veramente male e si mi fa pensare che qualcosa non vada mentre il 500 che ora se non si che è quello il Black se non dà problemi è un miracolo perché è due anni che gira tra server PC server PC PC server era sul mio è stato su un server ritorna avanti è stato per due anni nel mio PC insomma ha avuto una bella storia e quindi se non dà problemi quello però io penso sia tutta una partita di Blue che mi è capitato che ha avuto problemi del genere o di settori riallocati o di performance che esplodono dopo un anno ma ti accorgi perché il tutto è visivamente e veramente lento e quindi insomma lo scopriremo poi magari vi aggiungeremo nel prossimo video tanto comunque andremo a fare anche altri lavori non è terminato dobbiamo anche sistemare la situazione UPS lo capirete in un prossimo video perché devo gestirlo in maniera migliore lo capisco in un prossimo video anche perché ancora non so precisamente con che soluzione con che sistema proseguire quindi poi ne parleremo magari sì mi penso di propendere qualche soluzione di monitoring di passato su Raspberry Pi in quanto ho un Raspberry Pi di prima generazione qui in giro da qualche parte che ora non vedo che però non sta facendo nulla e quindi visto che comunque per utilizzi un po' più pesanti preferisco usare un Pi 2 o addirittura un 3B allora sì diciamo che quello potrebbe essere il suo scopo finale però ne parleremo in un altro video anche perché mi sa per questo mi sono dilongato abbastanza quindi sono tutti Andrea per AlfaTech e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti qui